Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da un angolo del Giardino dei Frati Cappuccini, per raccontarvi quello che accadde nel lontano 1926, qui a San Giovanni Rotondo. Beh, bisogna anche dire che c'era già tanto afflusso, tante folle, tanti pellegrini che giungevano proprio qui. In quegli anni, come spesso accade anche oggi, un autista di San Severo condusse dei pellegrini a Monte Sant'Angelo. L'autista, figlio spirituale di Padre Pio, dopo aver partecipato alla Santa Messa, insieme ai pellegrini che aveva accompagnato, fece un giro per la cittadina di Monte Sant'Angelo e si fermò proprio accanto ad un luogo dove una piccola azienda produceva dei croccantini, erano una specialità del luogo, ne ordinò una grande quantità da distribuire poi nel pullman ai pellegrini. Quando poi ripassò per ritirare quello che aveva ordinato, si accorse però che gli avevano preparato soltanto la metà, non la quantità che aveva richiesto. Per questo contrattempo lui si irritò talmente tanto che cominciò a bestemmiare. Beh, una volta saliti tutti sul pullman, i pellegrini fece riprendere la corsa verso San Giovanni Rotondo dove ebbero la grande opportunità di potersi confessare da Padre Pio. Quando tutti ebbero finito, fu proprio Padre Pio che nei confronti di questo autista gli disse «E tu figlio mio, neppure una benedizione chiedi?» E l'autista disse «No Padre, io non ho nulla da confessarmi perché mi sento a posto, poi non mi confesso da qualche giorno, quindi mi ritengo nel giusto». E Padre Pio insistette e soprattutto lo indusse a confessarsi. E così fu. Quando gli chiese che cosa avesse fatto, l'autista rispose che a Monte Sant'Angelo aveva ascoltato la messa, aveva partecipato quindi alla messa insieme a tutti gli altri pellegrini, aveva fatto un buon pellegrinaggio, poi tra l'altro aveva anche comprato delle immaginette per i pellegrini stessi e Padre Pio subito incalzò. «Non sono state le immaginette che ti hanno fatto bestemmiare, ma quelle cose che si mangiano», disse Padre Pio nei confronti di questo autista. Allora l'autista si ricordò di aver bestemmiato proprio davanti a quella piccola azienda che produceva i croccantini. E Padre Pio ancora incalzò «Figlio caro, sei stato proprio tu a maltrattare il carrettiere?» Aveva torto, sì, ma tu lo hai trattato malissimo, anche in quell'occasione hai bestemmiato. Si accorse allora che Padre Pio aveva seguito il suo figlio spirituale anche da lontano, chilometri lontano, era stato testimone di tutte le sue azioni in quel momento e lo sollecitava a purificare la sua anima affinché fosse in pace con Dio, cosa che l'autista fece con grande commozione e riconoscenza. Grazie a tutti!